La prima volta che si era avvicinato con un banale pretesto, il bambino aveva solo otto anni. Nei successivi tre era riuscito ad incontrarlo diverse volte facendo del piccolo l'oggetto delle sue perversioni sessuali. Un drammatico caso di abusi su minore è stato scoperto dalla polizia ad Andria dove un ragazzo di 22 anni è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore tranese Mirella Conticelli. L'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di Andria è partita a seguito della denuncia presentata dai genitori del bambino, oggi undicenne, allarmati dai numerosi messaggi che il loro figlio riceveva anche in piena notte sul suo telefonino. Ad inviarglieli in base a quanto scoperto dei poliziotti era sempre la stessa persona, un ventiduenne andriese che da tempo rivolgeva al bimbo esplicite richieste di incontri e dati sessuali inviandogli tramite smartphone foto e video dal contenuto pornografico. I file spediti dal ragazzo sono stati salvati dai genitori del bambino prima che il mittente potesse cancellarli. Alla richiesta di spiegazioni il piccolo ha raccontato, tra vergogna e disagio, di essere stato avvicinato dal giovane tre anni fa con una scusa. Da allora erano cominciate le molestie. Spaventoso il quadro emerso dalle indagini della polizia che ha scoperto come il ventiduenne avesse l'abitudine di adescare ragazzini anche in età infantile, avvicinandoli con false lusinghe ma spesso anche intimorendoli o ricorrendo alle minacce. Prove schiaccianti sarebbero state fornite agli inquirenti anche dai familiari di un altro bambino. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Trani e accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, corruzione e adescamento di minorenni. Telefoni cellulari e altri supporti informatici trovati nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati e sono tuttora al baglio degli agenti della polizia postale. Si teme che le vittime del mostro possono essere diverse.